Allora possiamo ricordare... Insomma la posso dire questa cosa bella che è bella? E' arrivato un messaggio, è arrivato un messaggio poco fa, quindi ve la do in diretta. Fresca! Noi siamo multimediali, dai. Una delle altre novità di questa sagra è l'impatto che abbiamo dato su internet, su questi nuovi giornali. Ci sono molti rappresentanti, qua poi avranno da fare anche loro un commento. Insostituibile. Insostituibile, ci hanno dato una mano grandissima. Infatti grazie a loro veramente che stiamo andando così. Sono stati messi in rete anche dei video, tutti conosciamo che c'è YouTube. Mi è appena arrivato un messaggio, che siamo nella top 100 dei video di YouTube. Un applauso. Un minuto, un minuto, un minuto, lo facciamo completo. Aspetta, aspetta. E siamo al 57esimo posto, caro vice sindaco. Quindi noi battiamo le classifiche nazionali. Siamo nella top 100, già è un successo, siamo al 57esimo posto di YouTube. Questo è già un successo. Parlavamo l'altro giorno. Per intenderci, tutto il mondo sta cliccando il sito della Sagra. Poi del resto possiamo anche aggiungere che c'è la televisione streaming online sempre della Sagra. Sì, ma tu parli difficile, tutte queste cose che sono... Streaming, beh. Streaming vuol dire, lo vediamo sul computer, dai. Te lo fai spiegare da un certo bilello, pure schembri che sono gli addetti a queste cose, che sono stupendi. Comunque, YouTube va bene. Io ho l'idea. Dovremmo andare in internet, dovremmo essere cliccati a tanta gente. E loro realizzano quello. Bene, bene. Abbiamo uno staff completo. Allora, io colgo l'occasione per fare gli auguri alla nostra Simona Attanasio. Sottolineiamo anche il colore delle nostre ragazze, gli auguri non si fanno, si fanno in bocca al lupo. Il colore del costume di questa sera è rosso. 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 Il tempo si spera. C'è un codice, hanno un codice tra di loro. Va bene. Allora, continuiamo. Continuiamo perché adesso Simona se ne va nella platea. Ecco.